buongiorno allora da che ci sono mi faccio rinnovare contratto anch'io magari avesse un contratto di quel tipo lì andrei subito a farlo rinnovare accetterai anche una riduzione di stipendio guardate un po sì 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 da sei e mezzo mi accontenterei anche di cinque anche di quattro e mezzo anche di quattro potrebbero spalmandoli ovviamente no vabbè adesso questi sono i pensieri che stanno al di là delle zanzare che si sono ormai rifugiate nella mia macchina veramente sto facendo un centro accoglienza per zanzare rincoglionite dal freddo questi sono i pensieri che stanno attraversando diversi giocatori della juventus pensieri che gatti non ha minimamente avuto rinnovando fino al 2028 esprimendo tutta ovviamente la sua soddisfazione felice come un bambino quattro anni fa questo ragazzo giocava nei dilettanti e c'è quattro anni prima scusate di arrivare a lui giocava nei dilettanti non so se se mi spiego insomma la parabola di gatti è una cosa incredibile vuol dire che i sogni a volte si possono avverare ok anzi lui nemmeno sognava di giocare nella juventus non ci pensava nemmeno non era neanche nei sogni non era neanche nei sogni per l'altro è torinese cresciuto mi sembra nel settore giovanile del toro quindi non so che fede abbia però comunque la sua parabola è bellissima però ci sono dei nodi da sciogliere no sugatti che appunto li ha sciolti tutti non avevo dubbi che lo facesse quello principale riguarda federico chiesa federico chiesa perché perché giuntoli gli vuol proporre il rinnovo di contratto l'avrete letto da qualche parte sicuramente gli vuol proporre questo rinnovo di contratto che è scadenza al 2025 vuole propoglielo fino al 2000 almeno fino al 2026 almeno per un anno un contratto fino al 2026 ragazzi vorrebbe dire che l'anno prossimo se ne parla di un eventuale cessione o meglio a giugno se ne parla di un eventuale cessione cioè se lui rinnova prima della fine di questa scala di questa stagione e prolunga fino al 2026 la juve ha la possibilità il prossimo di andare a trattare sul cartellino di richiedere una grossa cifra cosa che invece non avrebbe qualora richiesa non rinnovasse e quindi a giugno scatterebbe l'ultima stagione meglio a settembre la stagione 24 25 sarebbe l'ultima stagione di chiesa juventus vorrebbe dire o prendere una manciatina di soldi nel gennaio del 2025 o perdono a costo zero a giugno 2025 sono questi i conti che fa una società ok altrimenti avrebbe fatto una proposta più ampia gli avrebbe proposto un rinnovo di almeno altri due o tre anni se ci fosse da parte della juve e da parte del giocatore l'idea di prolungare ulteriormente questo rapporto e di fidelizzare il giocatore chiesa era stato messo sul mercato la scorsa estate la stone bill era stato autorizzato a parlare col giocatore aveva proposto 70 milioni per il cartellino chiesa aveva rifiutato la destinazione così sono andate le cose la scorsa estate ecco quindi questa proposta di un solo anno tra l'altro allo stesso stipendio 6 milioni e mezzo che il giocatore percepisce attualmente salvi come dire di approccio verso una futura trattativa l'ennesima zanzara futura trattativa di possibile cessione ovviamente ci vuole che qualcuno faccia delle proposte e che queste proposte arrivano da una società gradita a chiesa ok questo è il punto da considerare in questi in queste situazioni chiesa avrebbe già rifiutato la prima proposta cioè quella di prolungare di un anno alla stessa cifra cioè 6 milioni e mezzo vuole andare su delle cifre più più alte a titolo per poterlo fare secondo voi a titolo per poter chiedere un aumento dell'ingaggio dopo un anno e mezzo passato a curarsi e sì un ottimo avvio di stagione sia pure con le ultime due partite saltate nelle per le terz'ultima penultima partita saltate per problemi insomma per fastidio vi chiedo a titolo chiesa di chiedere addirittura un aumento dell'ingaggio al giorno d'oggi in molti calciatori ragionano così e cioè si va verso sempre gli aumenti mai verso le diminuzioni del contratto dell'ingaggio datemi una risposta io io ce l'ho la mia secondo me no non ha titolo per richiedere un aumento dell'ingaggio potrebbe accontentarsi ancora di 6 milioni e mezzo netti per un anno anche perché ripeto penso che di chiesa si parlerà la prossima estate ecco detto questo c'è anche la questione scesni lui è scadenza al 2025 si va verso un prolungamento al 2026 questa perlomeno l'offerta della juventus con diminuzione in questo caso con diminuzione dell'ingaggio e poi c'è il nodo dal contratto siglato a suo tempo è un aumento che porterà l'ingaggio automaticamente a 10 milioni netti l'anno che mi sembra una follia posso dirlo ma non per il giocatore mi sembra una follia che a giorno d'oggi si possa ancora argomentare su o parlare di un contratto o firmare un contratto due anni fa siamo ancora al giorno d'oggi no praticamente in questa era in questa epoca post covid dove ci sono stati problemi al netto di quello che è successo alla juve comunque problemi per tutti che si possa far firmare un contratto stipulare un contratto che prevede un aumento esponenziale che dai 7 milioni e mezzo porta poi praticamente a 10 e se non sbaglio addirittura a cifre ulteriori la ritengo una follia ok detto questo anche in questo caso la società è orientata sì al rinnovo nei confronti del giocatore ma naturalmente ad una spalmatura di questo aumento di altri due milioni e mezzo netti l'anno quindi prolungare sì oltre un anno ma spalmare che lui se non sbaglio scade nel 2020 lui scade nel 2026 se non vado del rato nel 2026 e poi c'è locatelli locatelli molto vicino al raggiungere l'accordo per prolungare fino al 2028 come ha fatto gatti per locatelli non credo che ci siano problemi in lui è fortissima la voglia di rimanere alla juventus è un giocatore che deve crescere sicuramente in personalità in parte la sta già dimostrando finalmente gli ha preso di tirare da fuori perché lo faceva con il sassuolo con la juventus praticamente non l'ha più fatto e finalmente l'ha fatto contro il milano ma lo dico per lui perché rientra nel suo bagaglio tecnico il tiro da fuori area ma il sassuolo aveva sentito diversi gol da fuori area e non ci saranno problemi perché lui è juventino fino al midollo ve lo posso dire tranquillamente ma non ne fa mistero nemmeno lui quindi lui si ha realizzato un sogno sogno della sua vita perché giocava già in serie a a differenza di gatti che giocava nel cosinone e giocava quattro anni prima nei dilettanti e nemmeno poteva sognare la cosa di questo genere il sogno di locatelli era giocare nella juve l'ha realizzato adesso naturalmente deve mantenere un certo livello di rendimento ma credo che non ci saranno problemi sul suo numero è tutto per il momento appuntamento naturalmente a questa sera